ciao a tutti allora allora partiamo subito veloce veloce allora quello che penso di ieri poi parliamo anche della partita e che è vergognoso nel 2018 quasi 19 vedere questi scontri per per una partita ho sentito che c'è un morto e quattro feriti se non mi sbaglio un tifoso dell'inter di varese sono il suo nome però non si può morire per una partita di calcio magari questo poveraccio non c'entrava niente se è peccato magari una coltellata non lo so non so come sono andati i fatti però è vergognoso mi appoggio a quello che ha detto federico e tanti altri youtuber che non si può fare i cori così aspettate che ok così idioti durante la partita perché come napoli a giocatori tipo culibali e noi abbiamo chita e asamoah di colore fare quelle quei buli è un po un contro senso e io spero che trovano il colpevole e lo buttano dentro come fanno in inghilterra insomma di altro non dico nulla perché poi potrei andare anche oltre però dico solamente una cosa ai tifosi del napoli cioè gli è stata una bella partita tutto quanto che adesso arriveremo anche al discorso però avete un presidente che puntualmente provoca queste cose qui nel senso che fa delle sparate cioè ridicoli perché se lui invece di provocare se ne sta zitto magari certi scontri non non ci sono visto che allegri ha sbottato nel senso che ha detto che se lo faceva lui cioè l'avrebbero cacciato in tempo zero perciò evitiamo questi come dire queste frasi inutili dico solamente questo va bene lei parliamo della partita va che era cosa migliore e allora primo tempo pronti via a momenti icardi fa un gol pazzesco da centrocampo però meret per forti per sua fortuna la palla ha beccato la traversa poi anche volendo in teoria la prendeva perché era centrale e insomma a momenti trovava il gol dopo 30 secondi di partita peccato non ci è riuscito però vabbè il primo tempo mi è piaciuto mi sono piaciuti tutti bene diciamo tutti pericic primo tempo ha giocato benino non ai suoi livelli però diciamo che ha fatto un po il suo napoli nel primo tempo si ha avuto un fatto un tiro in porta con un insigne mi pare che andanovi ce l'ha la fermata adesso non mi ricordo se la bloccata oppure è stata rispinta dalla dalla difesa comunque vabbè comunque ho fatto un tiro in porta in 45 minuti mi aspettavo un napoli diverso il napoli più cattivo più più voglia di vincere dell'inter e per per varie ragioni perché napoli adesso da 9 punti dalla juventus se vinceva andava a sei punti se non erro sì perché erano otto 86 sì adesso sono a 9 perciò ok e il problema sta che come dire che napoli il primo tempo secondo me nemmeno giocato poi non so io vedendo napoli inter dell'anno scorso con sarri c'era una bis sociale l'inter non vedeva palla cioè ha pareggiato a fatica a napoli e anche a milano comunque non è che è stata una partita molto molto semplice nel secondo tempo già il napoli è partito meglio ha fatto 30 minuti alla grande ha rischiato pure di andare in vantaggio con con degli schi e per fortuna visto che c'è qualcuno che dice casa ma fa cagare vero luca secondo terra è più forte di asamoah ok ha sbagliato colpito vendoven ha sbagliato anche con la juventus non stare attento però l'inter di la persa per colpa sua e non per la samoa ecco parliamoci chiaro e molto bene perché diciamo che la vittoria è stata grazie ad andano vice e poi diciamo il miracolo che ha fatto asamoah sul tiro di zelischi poi sembrava una partita da 0 0 e arriva tanto il il momento clou cioè nel senso che culibaly giustamente è stato ammonito per un fallo su politano cioè oramai politano aveva saltato culibaly lui con l'ha toccato appena appena l'ha buttato a terra giustamente fallo cartellino giallo poi cretino du che hai fatto il fenomeno girandoti verso l'arbitro e applaudire l'arbitro e giustamente ti ha buttato fuori da lì l'inter ha iniziato crederci ha messo dentro l'autore martin ha messo che ita insomma spalletti con questa volta l'azzeccata voi mi dite cioè il napoli meritava più in più di noi non credo perché l'unica occasione secondo me da come dire più pericoloso delle vostre sei stata dal dio di zelischi come stato al quarantesimo mi pare che poi subito dopo dopo 3 4 minuti abbiamo segnato noi all'incirca e poi che dirvi insegne io io lo reputo scusate il termine ma un bimbo minchia perché tu non puoi andare a incorrere un tuo avversario per dargli un calcio perché sei vergognoso sei vergognoso io reputo il signo è un buon giocatore ma non un fenomeno perché nelle partite decisive non c'è mai anche in nazionale non fa la differenza per me è un buon giocatore ma non niente più secondo me il vostro top player cazzata parte che ha fatto e cullibali perché è un muro cioè veramente le ha prese tutte lui infatti il gol è arrivato dopo l'espulsione di cullibali grazie a un a un velo di messino che lautaro stop e tiro gol cioè ha fatto ma fatto godere perché visto che ci sono tanti tifosi ne cito uno caro luca dello zoccolo duro è tu dici hanno vinto hanno sempre ragione no perché io credo in questo ragazzo quale lautaro martinez per me farà molto bene all'inter diamogli tempo solo è arrivato quest'anno e secondo me magari non lo farà bene subito facciamolo ambientale e poi magari tra qualche anno ne parleremo insomma ho detto secondo me è un gran giocatore poi se il tuo fenomeno e borini cioè fatica b e niente poi di altro cosa c'è da dire nulla io mi spiace per quella ragazza morto perché ripeto non si può morire per una partita di calcio che sia tipo dell'inter che sia un altro tifoso non si può morire per il calcio siamo vicini alla famiglia e poi speriamo che quei quattro feriti credo non adesso non ho letto bene speriamo che si riprendano e trovare il colpevole di chi ha iniziato a fare i cori e soprattutto chi ha ammazzato una persona è andata tranquillamente a vederci una partita e non è tornata a casa dai familiari o dalla moglie adesso non so se l'ho sposato o aveva figli comunque non c'è più e niente parlo così perché sono deluso da da questi comportamenti tutto qui non non c'è nulla da dire oramai è successo e niente era meglio che quello lì non so se è stato accoltellato comunque era meglio che si faccia un piatto di cacchi suoi e questo ragazzo era ancora in vita e non c'erano questi feriti e è il morto dico solamente questo va bene ragazzi iscrizione like e commentate ditemi come la pensate perché comunque è un argomento molto molto delicato e sono contento per la vittoria peccato macchiata per il sangue fuori dal dallo stadio va bene ciao ragazzi